Una 43enne è stata investita in Corso Genova a Vigevano nel primo pomeriggio di lunedì. Il sinistro si è verificato poco prima delle 14 nei pressi di un attraversamento pedonale. La donna si trovava sulle strisce pedonali che collegano via Rossini a via Toscanini quando è stata investita da un furgoncino. L'uomo alla guida del veicolo arrivava da Piazza Volta e doveva proseguire in Corso Genova. Davanti al mezzo si trovava un pullman che doveva svoltare a sinistra per andare in via Rossini. Il conducente del furgoncino lo avrebbe superato sulla destra, ma avendo la visuale oscurata dall'autobus non si sarebbe accorto del pedone che stava attraversando. La 43enne è stata soccorsa da un'ambulanza e da un'automedica. La donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Juanitas di Rozzano. Sul posto, insieme ai soccorritori, sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale per ricostruire le dinamiche dell'incidente. Il tratto di strada interessato dal sinistro è stato chiuso per consentire i soccorsi. Si sono verificati pesanti disagi alla circolazione, in quanto tutti i veicoli hanno dovuto fare inversione in Corso Genova, non potendo dirigersi verso vie laterali. Le forze dell'ordine hanno diretto il traffico fino alla riapertura della via.